Sì, dico a te. Mi senti? Avvicinati. Sì, un po' di più. Ecco così. Senti, ho bisogno del tuo aiuto. Nessuno mi nota più. Tutti corrono di qua e di là e non hanno neanche più il tempo di mettersi gli occhiali da sole. È un bel guaio, altro che... E non fare quella faccia. Come dici? Hai avuto un'idea. E allora forza, che aspetti? Shut up and sit down. Ciao.